Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova rubrica che è una rubrica dedicata ai compiti in classe di matematica, le cosiddette verifiche di matematica. Iniziamo con una verifica di trigonometria, una verifica che può essere data o a fine terzo liceo scientifico, o inizio quarto, o ad un liceo classico in quarto, o in qualsiasi liceo, o anche, va benissimo, per qualsiasi istituto tecnico. È una verifica abbastanza semplice che può essere svolta in circa un'ora, un'ora e mezza. Bene, il consiglio che vi do prima di iniziare questa video lezione è quella di leggerlo da soli, tutto il compito, e provarlo a fare da soli. Poi, invece, guardate il video per risolverlo insieme. Vediamo ogni passaggio, vediamo come deve essere svolto questo compito. Quindi, da soli, adesso spegnete il computer, da soli, cercate di fare in un'ora decente, e cioè metterci un tempo decente, come un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, questo compito da soli, lo dovete fare da soli. Ci vediamo fra un'ora e mezza. Allora, come si fa una verifica? Una verifica si fa in questo modo. La prima cosa che dobbiamo fare è iniziare a leggerla. Iniziare a leggere e vedere quali sono gli esercizi che essa contempla. E andiamo a scegliere, quindi, gli esercizi più semplici, iniziando dagli esercizi più semplici. Qui abbiamo un'espressione, ci accorgiamo che ci vogliono gli archi associati. Qui è calcolare il valore del coseno e il seno in due angoli, però abbastanza strani. Magari non ci può piacere tanto questo esercizio, ma vedremo che è abbastanza semplice. Qui abbiamo un'altra espressione, ci accorgiamo che dovremo usare le formule trigonometriche, quindi sicuramente qui una formula di bisezione, qui una formula di duplicazione, quindi magari risulterà abbastanza semplice. Poi abbiamo questo esercizio grafico, in cui dobbiamo associare ad ogni grafico della funzione una funzione già data. E vabbè, questo magari risulterà anch'esso non troppo difficile, ma a prima vista magari non di subito approccio. Qui abbiamo subito un esercizio geometrico, l'esercizio 5 è un esercizio geometrico su un triangolo molto semplice, ma che lasciamo alla fine perché ci accorgiamo di determinare il coseno dell'angolo esterno. Magari non ci sta molto simpatico questo angolo esterno, non sappiamo come fare. E poi l'ultimo, no, il penultimo è ancora determinare, è un esercizio grafico, determinare l'espressione analitica e il periodo della funzione rappresentata. Ecco, qui diciamo che è un esercizio che è un po' al contrario di quello che in genere si dà, e cioè in genere si dà una funzione y uguale coseno di 3x meno pi greco più 2 e invece in questo caso dobbiamo dal suo grafico ottenere come è l'espressione analitica. L'ultima è calcolare il valore di un'espressione, però qui abbiamo un coseno, un arco coseno, non ci piace tantissimo questa. E l'ultima è una citazione che leggeremo poi alla fine. Andiamo a vedere come riesco a risolverlo. Iniziamo dalla prima. La prima ci dà la carica sicuramente per poi far bene tutte le altre. È un'espressione, non è troppo complessa, cerchiamo insomma di risolverla senza troppi problemi. Abbiamo un senquadro di pi greco mezzi più alfa. Come al solito ci ricordiamo come ci ricordiamo la nostra espressione in cui dobbiamo andare a disegnare gli archi associati. Questo è un classico disegno di arco associato. Adesso ci disegniamo un attimo qui l'arco associato, non mi sono scordato di disegnarlo, adesso lo facciamo. Ci disegniamo questo, ci disegniamo un bel cerchio qui e così poi andremo a vedere come sono queste funzioni. La prima è seno di pi greco mezzi più alfa. Sappiamo che pi greco mezzi più alfa è in questa zona qui, quindi abbiamo che questo è il seno di pi greco mezzi più alfa ed è proprio uguale al coseno di alfa. Abbiamo un quadrato, quindi il primo pezzo se inquadro di pi greco mezzi più alfa è uguale a cos quadro alfa meno seno di pi greco pi greco meno alfa. Se inquadro di pi greco meno alfa abbiamo che è qui, quindi questo è il seno, questo è il seno. Ci ricordiamo gli archi associati, per chi non si ricorda c'è un video che parla proprio di questo. Se inquadro di alfa, fratto. Ecco qui abbiamo il coseno di meno alfa, qui abbiamo alfa, qui abbiamo meno alfa, ci accorgiamo che il coseno è esattamente lo stesso. Quindi coseno di meno alfa è uguale al coseno di alfa. Poi abbiamo il coseno di tre mezzi più alfa, tre mezzi è qui, tre mezzi più alfa, il coseno ci accorgiamo che è questo qui, il coseno di tre mezzi più alfa è positivo e quindi sarà uguale a sen alfa, meno sen alfa. Vado abbastanza veloce perché qui chi non sa gli archi associati se li deve riguardare altrimenti non riesce a farlo un'espressione del genere. Cos quadro meno sen quadro è la differenza di quadrati, quindi la scompongo come sen alfa più cos alfa che moltiplica sen alfa meno cos alfa fratto cos alfa meno sen alfa. Questa espressione va via con tutta questa e quindi la mia prima espressione è già fatta. Sen alfa più cos cos alfa. Quali sono gli errori più comuni che posso andare a commettere? L'errore assolutamente che dà più fastidio a un insegnante è questo errore qui, coseno col coseno, seno col seno. Questo è davvero un errore assolutamente da evitare perché fa in modo che l'insegnante non continui nemmeno a correggere l'esercizio perché è un errore davvero grave. Un altro errore grave che si può commettere è andare a togliere il cos mensen cos, questo in realtà è invertito, più meno. Un altro errore che si può fare è andare a togliere questo coseno con questo coseno, questo seno con questo seno. Ecco anche questo è un altro errore che non si fa. Tutta l'espressione, i fattori qui sono due, il primo fattore è questo, il secondo fattore è questo, quindi possono andare via solo i fattori, non gli addendi all'interno dei fattori. Ecco quindi insomma questo è il risultato. Ora andiamo subito ad affrontare quest'altro qui, questo esercizio, il coseno di 14 terzi. Andiamo a vedere come posso farlo. mi devo riportare a un angolo noto. 14 terzi io posso immaginare che sia 5, allora riscrivo coseno, vado a dividere per i vari 2 pi greco, 14 terzi è 5 pi greco meno pi greco terzi. Infatti faccio 6 meno 1, dico 15 meno 1 uguale 14. Quindi uguale. Questi 5 pi greco significa che ho fatto due giri e mezzo di circonferenza, quindi è come scrivere il coseno di pi greco meno pi greco meno pi greco terzi, perché sto facendo 5 giri, cioè faccio, scusatemi, no 5 giri, perdonatemi, faccio, allora, un giro 2 pi greco, 2 giri 4 pi greco e qui sto a 5 pi greco. Quindi è come scrivere pi greco meno pi greco terzi. Uguale, 14 sì, uguale al coseno di pi greco, uguale a meno, qui ci ricordiamo gli archi associati, meno il coseno di pi greco terzi, uguale a meno un mezzo. Seno di 23 sesti, anche in questo caso, seno di 23 sesti, come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come 4 pi greco meno pi greco sesti, infatti 24 meno 1 è 23, uguale. 4 pi greco vuol dire che 2 pi greco, 4 pi greco, quindi è come se io sto a pi greco sesti, quindi uguale al seno di pi greco sesti, anche uguale, anche questo, anche questo, a meno pi greco sesti, scusatemi, uguale a meno un mezzo, perché il seno meno pi greco sesti è meno un mezzo, lo andiamo a vedere, meno pi greco sesti, mettiamo che è questo, il seno è negativo. Ecco, quindi abbiamo già risolto due begli esercizi, andiamo a vedere il terzo. Il terzo esercizio è ancora una espressione in cui devo usare qui le formule di bisezione e qui le formule di duplicazione. Mi ricordo le formule di bisezione, qui però ho un cos quadro, io ho che cos alfa è uguale a più o meno la radice quadrata di 1 più cos alfa fratto 2, per quanto riguarda il seno invece ho il meno qui, qui ho un quadrato quindi non mi debbo preoccupare del più o meno e mi va via anche la radice, quindi qui è uguale a 1. Questa è un'identità, quindi il membro di sinistra deve essere uguale al membro di destra. Mi va via, dicevo, il quadrato, 1 più cos alfa tutto fratto 2 meno 1 meno cos alfa fratto 2, questa è la formula di bisezione del seno, meno due volte. Ora qui ho il seno di alfa mezzi e il coseno di alfa mezzi, quindi è come se dovessi moltiplicare questo, la radice di questo, per la radice di questo. E allora mi viene meno due radice quadrata, al denominatore ho due per due, quattro, al numeratore ho una differenza di quadrati, uno meno cos quadro alfa. Tutto, tutto, alla seconda, più 2 seno alfa cos alfa deve essere uguale a 1. Adesso vado a fare, prima di fare questo quadrato, vado a vedere chi è questo qui. Allora, va bene, i primi due magari posso già fare il minimo comune multiplo, metto 2, 1 più cos alfa meno 1 più cos alfa, meno 2, tutto questo numeratore, 1 meno cos quadro alfa, è uguale a sen quadro alfa, 1 meno cos quadro, quindi ho la radice quadrata di sen quadro fratto 4, quindi ho 2, tolgo la radice, la radice di 2, la radice di 4 è 2, la radice di sen quadro è sen alfa. Tolgo il 2, tolgo il 2, più 2, sen alfa cos alfa deve essere uguale a 1. Ora, andiamo, 1 va via, 1 va via, qui ho 2 cos quadro alfa, sì, ho cos alfa, sì, 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 esattamente, ho cos alfa meno, no, scusatemi, qui mi sono scordato il quadrato, qui ho quindi cos alfa meno sen alfa, tutto al quadrato, più 2 sen alfa cos alfa deve essere uguale a 1. Svolgo il quadrato, cos quadro alfa meno 2 sen alfa cos alfa, più sen quadro alfa, più 2, questo ce lo lascio, più 2 sen alfa cos alfa, questo va via, questo va via, uguale a 1, cos quadro più sen quadro uguale a 1, quindi 1 è uguale a 1. Ecco fatta la nostra identità. Ecco qua. Allora, andiamo ad esempio adesso a risolvere questo esercizio grafico. Ecco, in questo esercizio grafico io mi accorgo che questo, il numero 2 ed il numero 4 hanno periodi diversi da 2 pi greco, quindi magari sono i più semplici da risolvere. Quali sono i due, le due espressioni che non hanno periodi uguali a quelli di 2 pi greco? Uno è questo e uno è questo. Mi ricordo che questo è una, vediamo che ha un periodo più piccolo di 2 pi greco, mentre questo ha un periodo più grande di 2 pi greco. Allora, incominciamo a vedere, ad esempio, qual è che ha un periodo, ci ricordiamo che il periodo T è uguale a 2 pi greco diviso omega, 2 pi greco diviso omega, dove omega è ciò che sta vicino alla x, quindi è nel caso di coseno di omega x, quindi mi accorgo che qui ho un periodo T uguale a 2 pi greco diviso 2, è uguale a pi greco, quindi ho un periodo più piccolo di 2 pi greco. Qui sotto, nella D, ho 2 pi greco diviso un mezzo, è uguale a 4 pi greco. Quindi già da qui io mi accorgo che la D sarà questa, perché ho un periodo più grande, mentre la 2 sarà uguale alla C. Mi vado a verificare però, vado ad esempio a verificare, non so, il punto pi greco mezzi. verifichiamo la D con o pi greco mezzi oppure anche meno pi greco mezzi, cioè ci vado a mettere meno pi greco mezzi e vediamo cosa succede. Succede questo, eh? Prendo coseno, prendo questa espressione qui e ci vado a mettere meno pi greco mezzi. Coseno di meno pi greco mezzi diviso 2 meno pi greco quarti uguale. Meno pi greco mezzi meno pi greco mezzi fa meno pi greco quarti meno pi greco quarti, quindi coseno di meno pi greco mezzi che effettivamente è uguale a 0. Quindi torna perché va uguale a 0. Andiamo a verificare la C. La C la andiamo a verificare ad esempio andando a mettere, che ne so, pi greco quarti, questo punto qui. Andiamo a fare pi greco quarti e deve fare 1. Quindi prendo la C, prendo questa espressione qui e ci vado a mettere pi greco quarti. 2 seno di 2 per pi greco quarti meno 1 è uguale a 2. 1, 2. Il seno a pi greco mezzi fa 1. Quindi 2 per seno di pi greco mezzi che fa 1 meno 1 è uguale a 1. Effettivamente fa proprio 1. Bene, andiamo a vedere le altre due. Ora nelle altre due sono abbastanza facilitato perché innanzitutto non ce ne ho 2, cioè non ce ne ho 4 ma in questo caso ce ne ho soltanto 2. Allora, andiamo a vedere la B. Vediamo che la B è meno coseno di pi greco meno x più 1. Vuol dire che in questo caso avrò un più 1 e quindi riconosco il fatto che ho un più 1 con il fatto che debbo partire da qui. E quindi la B io vado a vedere che effettivamente è la numero 3. Quindi qui ci scrivo una bella B. Mentre sulla A ci andiamo per esclusione e quindi la 1 è effettivamente la A. Andiamo ad esempio a verificare la B andandoci a mettere 0. Quindi prendo questa espressione qui e ci vado a mettere 0. Ci vado a mettere 0. Quindi x uguale 0 e mi viene meno coseno di pi greco meno 0 più 1 è uguale a meno il coseno di pi greco. Quindi a pi greco il coseno fa meno 1 quindi mi viene meno 1 per meno più 1. Quindi 1 più 1 ed effettivamente fa 2. Per esclusione insomma abbiamo la A. Se volete potete anche andarla a verificare. Ora andiamo con il nostro problema geometrico. Il nostro problema geometrico ci dice che ho un triangolo acutangolo e quindi me lo vado a disegnare. Ho forse lasciato un po' troppo poco spazio qui. Comunque vabbè. Me lo vado a disegnare. A, B, C. Questo è il mio alfa, beta e gamma. Il mio esercizio dice che vuole andare a calcolare questo qui che chiamo gamma primo. Allora la prima cosa che faccio mi vado a calcolare. C'ho sen alfa e cos beta. Mi debbo calcolare una funzione trigonometrica del... visto che mi chiede il coseno dell'angolo esterno mi vado a calcolare il coseno dell'angolo interno. E sarebbe cos gamma. Coseno di gamma è uguale al coseno di 180 meno la somma degli altri due, alfa più beta. Il coseno... mi ricordo le formule degli archi associati. Il coseno di pi greco meno qualcosa è uguale a meno il coseno di quel qualcosa, quindi meno coseno di alfa più beta uguale a... mi vado ad utilizzare le formule di addizione... meno cos alfa cos beta. Metto il meno davanti. Ho il più, quindi la forma del coseno vuole il meno, col meno davanti più sen alfa sen beta. Ora andiamo a vedere chi ho. Ho sen alfa, ce l'ho. Sen alfa lo vado a mettere qui. Cos beta ce l'ho. Cos beta lo vado a mettere qui. Mi manca cos alfa e sen beta. E me li vado a trovare. Allora cos alfa è uguale... siccome un triangolo acutangolo è più... qui ci andrebbe più o meno uno meno sen quadro alfa... ci andrebbe più o meno, ma è un triangolo acutangolo, quindi lascio più... è uguale alla radice quadrata di uno meno un quarto uguale alla radice quadrata di tre fratto due. Mi vado a trovare... poi abbiamo detto... quindi cos alfa adesso ce l'ho... mi vado a trovare sen beta. Andiamoci a trovare... no, torniamo al nero... andiamoci a trovare sen beta... sen beta uguale a... anche qui, vabbè, qui non mi devo nemmeno preoccupare del segno... uno meno nove sedicesimi uguale sedici meno nove sette... la radice quadrata di sette diviso quattro. Ora posso andare ad utilizzare questa formula, quindi uguale... ci mettiamo qui un bell'asterisco... un bell'asterisco uguale allora meno... abbiamo il meno e ce lo lasciamo... meno radice cos alfa... cos alfa è radice di tre su due... per tre quarti... più... sen alfa è un mezzo... per radice di sette su quattro... uguale... mi faccio i calcoli... e mi viene... meno... tre... radice su... tre... di tre... su otto... più... radice di sette... sempre su otto... vabbè, potrei fare il minimo comune multiplo. Adesso ci andiamo a trovare cos gamma primo... che è uguale a cos di pi greco... questo è tutto l'angolo... tutto l'angolo è pi greco... meno gamma... quindi è coseno di pi greco... meno gamma... uguale a meno cos gamma... uguale... prendo l'espressione che ho avuto e ci metto il meno davanti... meno... apro parentesi... meno tre... radice di tre... su otto... più... radice di sette... su otto... la posso lasciare così... oppure posso anche andare a cambiare disegno. Passiamo al prossimo... eh... lo so... vi fa male la testa... anche a me... è un compito in classe... dobbiamo stare molto... molto concentrati... andiamo a vedere questo... ecco... questo è un esercizio... molto interessante... andiamo a vedere... oh... innanzitutto... quale considerazione fare... partiamo dal fatto che va a meno due... meno due... la cosa che mi viene in mente... magari è che... poi... un'altra cosa che mi viene in mente... assomiglia più al seno... più al coseno... ma... oggettivamente assomiglia molto più... ehm... in questo caso al coseno... no... perché il coseno parte da uno... il seno partirebbe da zero... e quindi insomma... è uguale... questo sarà sicuramente uguale a un coseno... un coseno traslato verso sinistra... di pi greco sesti... quindi avrò un coseno di qualcosa... ma sicuramente avrò più pi greco sesti... è vero? perché... se traslo verso sinistra... e quindi... ho un meno pi greco sesti... o più pi greco sesti... chi non si ricorda... può andarsi a rivedere i video... delle traslazioni... degli shift... che abbiamo fatto... verso sinistra... o verso destra... quindi sicuramente... avrò un più pi greco sesti... quindi... una cosa che mi potrebbe venire in mente... è che qui ho due... ad esempio... ci metto due... perché? perché... il coseno viene... dilatato di meno due... quindi... magari un meno due coseno... così che... quando il coseno... parte a uno... questo parte a due... meno due... sta qui... però... in realtà... non è così... perché... quando fa uno... poi il coseno... dovrebbe andare... a... più due... e invece... vedete che... arriva fino a cinque sesti... quindi... questa non è una strada giusta... da percorrere... e... invece... sicuramente... è il coseno... invertito di segno... invertito di segno... perché vedo che sto... dall'altra parte... meno pi greco sesti... e poi... per arrivare a meno due... gli devo togliere... un uno... quindi... meno... meno coseno... di... x più pi greco sesti... meno uno... vado a vedere... e vado a fare... ad esempio... una verifica... la verifica... dove la faccio... a cinque sesti... allora... meno... coseno di... cinque sesti pi greco... più... pi greco sesti... meno uno... uguale... cinque sesti... più pi greco sesti... fa... ehm... fa pi greco... quindi... meno coseno... di pi greco... meno uno... il coseno a pi greco... fa meno uno... col meno davanti... meno meno uno... quindi... più uno... uguale a uno... meno uno... uguale zero... sì... effettivamente... ciò ho azzeccato... il periodo... è uguale... a due pi greco... ecco... mi ricordo... del periodo... qui... ah... non... 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 non mi chiedeva il periodo... ma me lo chiedeva qui... me lo chiedeva... nell'altro... caspita... mi sono scordato... mi sono scordato... cioè... ho considerato... il periodo di soltanto di questi... mannaggia... poi il professore... la professoressa... non... 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 gli va bene... quindi... calcolo qui tutti i periodi... due pi greco... due pi greco... perché... vicino... alla x qui... c'è uno... e quindi... è sempre due pi greco... perché omega è sempre 1. Per fortuna mi sono ricordato di questa cosa. L'ultimissimo esercizio, mi sembra, sì, mi sembra, l'ultimissimo esercizio è questo. Ecco, questo è un esercizio carino, che è una formula di duplicazione, ma con un arco seno. Ci ricordiamo che le formule di duplicazione, chi non se le ricorda può andarsi a rivedere il video delle formule di duplicazione, le formule di duplicazione io ne ho ben tre, caspita, ho tre formule di duplicazione, ma siccome ho un arco coseno, vado ad utilizzare la formula di duplicazione del coseno cos 2 alfa uguale a 1, anzi no, scusate, 2 cos quadro alfa meno 1. Utilizzo questa formula di duplicazione. Quindi ho 2 cos quadro, il mio alfa è questo qui, è questo qui, quindi 2 cos quadro di, arc cos di meno 1 terzo, ok, di meno 1 terzo uguale 2, sarebbe, va bene, lo facciamo tutto, cos di arc cos di meno 1 terzo per cos di arc cos di meno 1 terzo. uguale. Allora, il coseno dell'arco seno mi viene meno 1 terzo, qui ho questo 2 per meno, ah, pardon, meno 1 terzo per il coseno dell'arco seno è uguale ancora a meno 1 terzo, è uguale quindi a meno 2 noni. Ecco qui fatto anche l'ultimo esercizio. fatto l'ultimo esercizio mi vado a leggere questa bellissima frase, se le persone non credono che la matematica sia semplice è perché non hanno ancora capito quanta è complicata la vita. E questo, diciamo, è davvero da sottoscrivere di Louis von Neumann, un grandissimo della matematica del 1900. Chi vuole può andarsi anche a leggere qualcosa di von Neumann. Bene, abbiamo finito con questo primo esperimento nella corrizione dei compiti in classe, spero che vi sia piaciuto, mettetevi piace, iscrivetevi al canale perché presto ci saranno molti molti altri esercizi. Bye, see you soon! Ciao!